ah io sono partitante per vari motivi niente introduzione niente cose non ci rompete le palle qua è un fatto serio io però questo punto non ho mai visto per esempio in realtà lo sblocchi lo sblocchi quando porti mi miri indietro è vero tu non sei ci sei stato però quando abbiamo parlato si no tu non ci sei mai stato alla casa della strega l'hai visto solo in video con qualità pessima ciò verde gratos in ansia come si preoccupa è strano strano proprio perché alla fine negato pure vecchi mai fottuto di niente no ma lui in realtà lui soffriva anche parecchio però erano già oramai morte si è vero la la moglie e la figlia speriamo che vorrei capire questi che so non ho ancora capito vero Freyla! Open la porta! Chiamo di aiuto! Cosa, non ti senti me? È urgente! Sono ancora una dottia, andiamo! Il ragazzo ha seguito te! Freyla! È il ragazzo. Inizia. Questo non è un'imperiore. Il ragazzo è la natura vera, la natura vera vera. La natura verrà dentro. Io prendo questo a lui. Mi aiutti? Ovviamente. C'è un ingridiente rinforzato solo in Helheim. Il giardino che protegge il Briggio del Damned. Ho bisogno di il cuore. C'è il cerbero. Vabbè. 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 C'è l'ora. Carppo sono la botte per lì. Vabbè. Invece a Roma. Invece a casa. I più o meno. Che che devi fare, ti ritornalare. Mi racconta. Il now? Vabbè. Mai fidarselo in Dio Mai fidarselo in Dio Mai fidarselo in Dio Così ti puoi godere anche tu questo paesaggio incredibile Si Bello Ma che mi chiamano brother? Ah lo so Ah vabbè tipo Il ghitto capito? Si Ah ok si deve andare con la barca E vabbè Le mie speculazioni fatte in passato stanno portando Un risultato Si Sembra che è bene la barca dei Yippie Ma che se lo tienilo al culo qua? Si infatti qua se lo tienilo al culo Eh di solito se lo tienilo al culo Eh di solito se lo tienilo al culo Voglio capire che è su burdello E Saramodi? Eh bravo Non è che per caso perché è morto Comunque Un Dio De morto esatto Magni O Magni Come cazzo è Perciò c'è Tempeste e cose Può darsi chissà E' anche vero che comunque è Torre il Dio delle Tempeste Si Però Uh c'è il biatto Però vedi Tuona Secondo me è solo scenico Eh beh Se è scenico fa la sua figura perché io ho la pelle d'oca anche sulle ginocchia Ah E' Athena Si è Athena quella Non ho sbaglio Il trapasso che è Eh 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 Siamo già arrivati a casetta Stavendo un'ulcera Ma non ti puoi guardare attorno Ah questo si Anche se lui non gira la faccia Vabbè lui figura di No forse si la gira Poco forse E' proprio capi il trapasso Il passaggio dal vecchio Dal nuovo Al vecchio grandos Non so che dire E questo Questo è quello che secondo me Per me ci sta in quello che viene chiamato Fan service Si però Cioè di solito uno se ne lamenta Però quando è così messo bene nella storia Cioè puoi solo capire di avere una fortissima erezione Cioè io dopo sto video Non ho bisogno neanche di un porno Arriviamo al punto più importante Allora Cioè Mi colpiti E' uno strunzo patentato Ma va eh Ti piace Ha lasciato anche gli oggetti Si Siamo avanti su Io penso di aver capito una cosa Ossia Che spesso sono infiniti No Di entrare in casa No Ma ci credo Sarebbe simpatico però come cosa Ma è vero Non si possono prendere il combattimento Ma come è questa roba Eh ha detto un sacco di roba Lasciavo No avevo pensato In modo troppo simpatico Ah no era vita Re gialla Sarà per l'ambiente Ma che ti snorrete Ma sono i giochi del figlio Si Peccato era simpatico Se erano infiniti Devi entrare in casa Mamma mia Se fa quello che io ti ho detto Dai che lo fa Ne sono sicuro Si Cazzo lo fa per davvero Per questo Gli dice ad Atreus Che non deve andare Là sotto Vabbè E' palese Che c'è qua Vabbè Vabbè Beh che si vede che sono l'ugore Si Che hanno ucciso Ma è bello Che poi mo che lame saranno No se lo No se lo Sanno quelle del tre Quelle di Atena Si Si attivano infatti Ah, vabbò Sì Ma io non sono il tuo monstre più lungo Ah, le vecchie pulità Braille, sì, sono Sono quelle Madonna mia, davvero Sono proprio quelle Atrucce Mamma mia Per ora ce ne abbiamo poche, però Ah, vabbè Non si potranno potenziare Ma è improponibile un'arma sola Io sto pure morendo, però sto potendo Mamma Ok, però adesso sto vedendo Ok, però adesso sto vedendo Ok, vicino abbiamo buona sabbia Madora, madora, molto bella Hello, old friend Ma io credo che ci sono una porta Allora, vediamo un'altra porta Allora, vediamo un'altra porta Allora, guardiamo un'altra porta l'acqua è chiuso però un momento eh eh infatti e vabbè e vabbè che bello allora mira e ti mi premuto R2 per potenziali danni da fuga infritti all'impatto ah no questi sono quelli da sopra allora quando corri R1 per attaccare vabbè base vabbè queste sono le classiche sia tanto abbiamo 31.000 punti esperienze si si anche questa è la classica si comunque se puoi prendere tutte tanto è ancora livello 1 quando miri premi R1 nooo questa già ce l'hai ok di base spero tacchi il livello di successione senso bivetanio ah ok la stessa cosa bonus a fortuna premi sempre R1 nooo ecco se va bene ok i repremi R2 ah bella per una spazzata ok ah ecco manici ligni per lama ok ci sono anche gli attacchi runici che non ci sono però bella dove devo andare? ok di qua no no ah no devi prendere ah no devi prendere il cadetto prima di prendere la pola scorciatore per il tempio di tir e dove sta? e dove sta? segui la manina ah ok ah ok proprio il portale c'è un teletransport ok beh dirà qua intende anche perchè è l'unico dove possiamo andare gli altri sono tutti bloccati gli altri sono tutti bloccati casa no si ahi carica ahi carica ahi carica non è un po' di magica i amici che sono questi? non ho mai visto è una famiglia non non è mai mio fratello e io crearono me all'nare per i grandi idioti lo conosco e lui? lui è speciale dove c'è una piccola? è un po' di male non cosa succede? è qui? non la scuola è mia è mia responsabilità per fare bene noi abbiamo tutti bisogna prendere responsabilità cosa posso fare per aiutare? io posso fare cose un bello di tagliare no non funzionare qui è sufficiente ok quindi dove sei andato? in una risposta nel rompio dei morti lontano fatti potenziare le armi vado a guardare pomo delle lame tizioni ardente ovviamente che chissà dove si trova di sicuro te le danno quelle prove si che già le hai fatto fiamma del caos però vedi che i potenziamenti puoi creare cose nuove hai visto che i potenziamenti della lama del caos vanno sul runico mhm perché secondo me gli attacchi hanno anche un'influenza runico perché sono molto di fuoco capito? si attivano sempre di fuoco fortuni 10 facci del cazzo culo c'è più culo eeeh che è? una piccola antidea di vita e la rabbia al massimo quando credos muore treos lo rianimerà eeeh ah per il momento siamo senza treos quindi nessuno ci può rianimare se moriamo ci fottiamo ah ok qua stanno venendo sbloccate proprio risorse così come se non ci fosse uno ieri uno i dieti anche ma ci può ancora potenziare una cosa eeeh si fa un colpo sinceramente abbiamo un po' di robe eeeh fighe mmmm mmmm eeeh ma ma questa è una fesseria per quanto sia livello 6 beh simpatica essere sincero si vabbè se c'è spazio però rispetto a cosa io mi sarei messo una di queste o runico o vitalità e' l'unico sta fessuale pure mmmm la potenziare un po' dato che tanto mo' lascia ce la possiamo anche dimenticare quindi queste vanno tolte ci sta poco da dire questo può servire questo va tolta allora chi sa ma ah dici eeeh ti aumenta i tiri dell'ascia che te ne frega noi l'ascia mo' non la possiamo usare che in Elheim hanno detto inutile si la si a sto punto no che cavolo sto facendo ah allora fuori di una benedizione runica si vantaggio ok gelo Elheim ci sarà gelo credo è un problema di si e vabbè ma sulle spalle non possiamo mettere niente ancora no niente di niente mamma mia che bella che poi è il simbolo di God of War si infatti è l'auvo mega bro mega e ricordi avere paura mi mis��se vecchio Kratos è qui con te Nel vero senso della parola Bordello, catastrofe Madonna I'll be watching your back Let me take this moment to tell you that what you're about to do is absolutely insane Bene, neanche Odino può sopravvivere a questo freddo, eh Il mondo dei morti L'inferno di Yash Bello Bello è Vedi sti cosi Chissà che servono Ah, ora ho capito Probabilmente con queste spade puoi distruggere quei rami di ghiaccio, chissà Mmm, bella idea Se ne può essere Ma Abbiamo compagnia Che Che proprio non aspetta, non è Pure mai rugato Ehm Ehm ok no ok 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 sarà una mappa del tesoro ebbene signori io Elheim me lo terrei come bonus no come video prossimo in modo da cercare di gestircelo per bene se no se non ci blocchiamo non ci bloccheremo mai questo posto è da finire e capire a Treus che fine fa quindi fino alla prossima volta e buone bot